Dopo cognati, parenti, cugini, figli, fidanzati, amici, amici degli amici, mancava soltanto la mamma e infatti la Meloni ci regala la madre di tutte le riforme, come l'ha chiamata lei, che è quella che cambia la presidenza del Consiglio, la presidenza della Repubblica e il Parlamento. Oggi l'Italia è una Repubblica parlamentare, cioè gli elettori eleggono il Parlamento che poi dà la fiducia a un governo guidato da un Premier nominato dal Capo dello Stato. Se il governo cade prima della fine della legislatura, il Capo dello Stato si appella al Parlamento e se trova una nuova maggioranza dà l'incarico a un nuovo Premier, altrimenti scioglie le Camere. Dal 1946 abbiamo avuto 68 governi con 32 Presidenti del Consiglio, ciascuno è durato in media 361 giorni, un po' meno di un anno. Siamo un popolo litigioso e individualista e i partiti assomigliano al popolo. Ci vuole più stabilità e su questo sono d'accordo tutti. Qual è l'ideona della Meloni e delle destre? Eleggere direttamente il Presidente del Consiglio. Nel mondo non lo fa nessuno, ci sarà un motivo, no? Anzi l'ha fatto una volta Israele. Nel 92 ha iniziato a eleggere i Premier, poi ne ha visti cadere tre, anzi tempo, con tre elezioni anticipate e ha smesso, ha ritirato il Premierato nel 2003. Noi adesso che cosa facciamo? Lo riesumiamo dicendo che porta stabilità, quando in Israele è unico caso, ha portato instabilità. Perché? Perché siamo furbi. Il Melonierato, perché non è un vero Premierato, funziona così, funziona, si fa per dire. Il Presidente del Consiglio viene eletto per cinque anni, come adesso, ma non più dal Parlamento, dai cittadini, su un'unica scheda elettorale. Quindi ci danno una scheda al seggio e noi mettiamo una sola croce sul simbolo di un partito o di una coalizione che hanno indicato il loro candidato Premier. La coalizione o il partito che arriva primo, anche soltanto di un voto, si ritrova in Parlamento il 55% dei seggi, anche se magari ha preso il 20% o meno del 20% dei voti. Il Premier più votato va al Quirinale, lì il Presidente della Repubblica, deve dargli l'incarico di fare il governo. Fa il governo e governa per cinque anni, se ci riesce. Se non ci riesce, cade. Che succede? Tre opzioni per il Capo dello Stato. Primo, ridare l'incarico al Premier trombato perché ci riprovi. Se gli riesce il bis, va avanti. Se non gli riesce il bis e lo ritrombano, seconda opzione. Il Presidente dà l'incarico a un altro Premier, che deve essere un parlamentare del partito della coalizione del Premier appena trombato. Ma attenzione, deve presentarsi in Parlamento con lo stesso programma del Premier appena trombato, cioè il programma che ha appena fallito. E allora che l'hai fatta fare la crisi? L'hai fatta per sostituire il Premier eletto dal popolo con un Premier voluto dai partiti, cioè dal Parlamento contro il popolo. Attenti perché il secondo Premier è anche l'ultimo. Dopo non ce ne sono più altri e deve essere un parlamentare. Non può essere un esterno, come lo erano Dini, Letta, Renzi, Conte e Draghi quando divennero Premier. Nemmeno può essere un senatore a vita, perché i senatori a vita sono aboliti. Napolitano nominò Monti e poi lo fece Premier. Non potrebbe più farlo. Nessun senatore a vita tranne gli ex Presidenti della Repubblica. E se il Premier panchinaro, il Premier di riserva fallisce, che succede? Che succede se muore o resta invalido? Non c'è più un terzo Premier. Il Presidente della Repubblica ha due colpi in canna e poi è disarmato, quindi deve sciogliere le camere e andiamo a votare. La panchina è corta, anzi cortissima, c'è una sola riserva. Terzo opzione, fallito tutto, si sciolgono le camere e si va a votare. Quindi noi avevamo una democrazia parlamentare e non ce l'avremo più. Avremo un Premier assoluto con una maggioranza mostruosa, anche se rappresenta una piccola minoranza di cittadini. Il Presidente della Repubblica ha ridotto a un soprammobile perché? Perché perde quasi tutti i suoi poteri. Non può più scegliere il Premier, non può più sciogliere le camere a sua discrezione, non può risolvere le crisi cercando altre maggioranze, non può nominare i senatori a vita. Un taglianastri praticamente, decorativo. E intendiamoci, Presidenti alla Napolitano, alla Mattarella, che si inventano governi tecnici ammocchiate per ribaltare il risultato delle elezioni e mandare al governo chi le ha perse per tenere fuori chi le ha vinte, una sforbiciatina alle unghie se la meritavano. Ma chiediamoci perché Mattarella è così autorevole. Perché non è stato eletto dal popolo, quindi non si è candidato con una parte contro l'altra. È espressione di un'ampia maggioranza parlamentare e quindi è riconosciuto come super parte. Siamo nell'era dei soci, agli umori degli elettori cambiano a ogni stormire di fronda e quindi inseguiamo sempre la novità del momento e poi alziamo gli occhi e diciamo, va bene, meno male che c'è almeno una certezza, il Presidente. Ma un Presidente così non ce l'avremo più. Perché? Perché col 55% la maggioranza si eleggerà il suo Presidente della Repubblica che diventerà un uomo di parte, l'espressione di quella infima minoranza di elettori che hanno dato l'ampia maggioranza al nuovo Premier eletto. Vespa ci ha detto che quello del Presidente della Repubblica non è un problema perché d'altra parte ha detto chi si ricorda il nome dei Presidenti della Repubblica, dell'Inghilterra o della Spagna. È vero, nessuno se ne ricorda. Perché? Perché sono due monarchie, quindi non hanno il Presidente della Repubblica, quindi non c'è proprio niente da ricordare. Hanno il Re e tutti si ricordano il Re, Carlo III e Filippo VII.